Zanzare, tigri e zanzare comuni non sono solo fastidiose ma possono anche trasmettere malattie talvolta gravi. Proteggere se stessi e gli altri, contrastando la diffusione di questi insetti, è importante e bastano alcune semplici azioni. Per questo l'azienda USL di Ferrara è in prima fila nella lotta alle zanzare. Con quali iniziative ce lo spiega Annalisa Califano, dirigente medico del Dipartimento di Sanità Pubblica USL Ferrara. Dal 1 di maggio è attivo il piano regionale dell'arbovirosi, un piano che ormai è pubblicato da molti anni, a partire dal 2007 perché nacque in coincidenza con i problemi di cikungunya, quindi l'epidemia che ci fu in Ravennate. È un piano che contiene misure di tipo sanitario in parte, soprattutto collegate alla sorveglianza delle malattie infettive trasmesse da vettore. Argomento quest'anno tra le altre cose è molto importante per gli allerta di fusione dengue che sono ben conosciuti anche dalla popolazione. Un piano che vede il coinvolgimento dell'area veterinaria per le azioni di competenza, ma anche un piano dedicato molto a creare e a mantenere nel tempo una rete che è indispensabile per combattere il vettore zanzare. In questa rete, oltre all'azienda USL, entrano in giochi comuni che si occupano di effettuare delle attività di lotta larvicida sul suolo pubblico e lotta adulticida in situazioni molto particolari, cioè quando c'è una circolazione virale in atto, quindi può essere il fatto di avere virus dengue per casi importati, potrebbe essere anche West Nile. Attualmente ancora non abbiamo segnali di circolazione del virus, ma visto che siamo un'area dove il virus circola, ci attendiamo che fra un po' di giorni possa eventualmente giungere tale notizia. Altro componente importantissimo della rete è il cittadino. Il cittadino deve supportare nella parte propria privata quello che è intanto l'azione larvicida, soprattutto se hanno delle aree verdi, e quindi può partecipare a questa lotta larvicida utilizzando prodotti che oltretutto i comuni delle varie residenze danno anche disponibili come disponibilità gratuita al cittadino e sono oltretutto molto semplici da utilizzare, quindi non richiedono delle culture particolari perché alla fine dei conti il più semplice in assoluto sono stick di compresse e basta naturalmente inserire nel classico tombino, ad esempio, una compressa di questi larvicidi e mettere in atto altre misure che sono il classico svuotamento dei sottovasi d'acqua perché anche piccolissime quantitativi di acqua possono facilitare lo sviluppo delle larve di zanzare e quindi il successivo sfarfallamento e avere quindi produzione di zanzare. Il cittadino deve anche naturalmente imparare a proteggersi perché nei momenti in cui ci sarà la circolazione di zanzare soprattutto dovessimo passare da quello che è un attuale stadio 1 dove noi manteniamo la sorveglianza della circolazione dei virus ad uno stadio 2 che vuol dire che è provata una circolazione del virus, parlo soprattutto di West Nile, a quel punto sarà necessario che il cittadino soprattutto quando si esce nelle ore serali adotti degli accorgimenti che sono cercare di proteggersi con abiti leggeri ma in genere più compretti possibile, di colore chiaro, evitare un po' profumi dopo barba, creme che abbiano delle profumazioni che attirano gli insetti, che usi naturalmente adeguati repellenti ripetendoli se rimane molto tempo fuori perché il repellente comunque ha un proprio tempo di azione e quindi va periodicamente ripetuto. In casa naturalmente se ci sono zanzariere utilizzare le zanzariere e naturalmente preferire un eventuale uso del climatizzatore piuttosto che tenere una finestra aperta soprattutto se priva di zanzariera perché naturalmente facilita l'entrata delle zanzare e quindi la puntura. Quindi in realtà è un piano semplice però un piano che coinvolge tutti quanti in quanto non c'è un solo attore responsabile di una azione e basta. Quindi deve esserci grande collaborazione. Andando un po' più nel dettaglio è importante sapere che la lotta alle zanzare è fatta di azioni adulticide quindi sull'insetto adulto oppure azioni larvicide per eliminare direttamente le larve. Come si compiono e quando occorre mettere in campo l'una o l'altra ce lo racconta ancora la dottoressa Annalisa Califano. La lotta larvicida è quella da preferire sempre perché avere il larvicida significa battere le larve prima ancora che si sviluppino e di conseguenza si evita che si crei una popolazione di zanzare che poi naturalmente a loro volta andranno a creare ulteriori progenie. Quindi bisogna proprio lavorare sull'arvicida perché è quello che permette di ridurre proprio l'abbattimento. Naturalmente l'adulticida si deve preferire nei momenti in cui c'è una situazione di pericolo cioè noi dobbiamo avere un mezzo per poter abbattere in maniera importante le zanzare nel momento in cui c'è una circolazione come capita ad esempio in caso di importazione di virus da dengue, cicungunya e zika. Ecco in questi casi ad esempio è importante avere la possibilità di utilizzare l'adulticida perché devono essere messi in atto proprio dei protocolli specifici. A un caso sospetto è necessario da parte nostra avvisare il comune di residenza definendo delle aree attorno al luogo di residenza del caso dove bisogna fare lotta l'arvicida che va implementata associata però a lotta anche adulticida sia sul suolo pubblico sia anche in un intervento porta a porta dei singoli cittadini che abitano entro un raggio di tot metri a seconda se siamo in zona abitata o in zona invece più esterna ai centri abitati rispetto al caso malato. E poi naturalmente quando si rende necessario per eventi e manifestazioni pubbliche soprattutto se c'è una provata circolazione di West Nile e vi sono eventi pubblici che coinvolvono moltissime persone nelle ore serali. In questi casi potrebbe essere necessario intervenire con una lotta adulticida. Quindi l'adulticida deve essere molto limitato come impiego perché dobbiamo evitare di avere con un uso eccessivo della comparsa di fenomeni di resistenza e quindi di non avere più disponibile un'arma che in certi momenti ci serve in realtà molto. Sui larvicidi si possono utilizzare dei prodotti, sono dei biocidi, sono prodotti anche a basso impatto sull'ambiente, ma l'adulticida sono sostanze chimiche importanti quindi bisogna utilizzarle ma in maniera consapevole e molto mirata da parte naturalmente di professionisti. Ricordo anche che ha un effetto molto limitato nel tempo quindi anche per questo utilizzare un'adulticida si pensa di poter rimanere liberi da zanzare anche per 15-20 giorni. Non è assolutamente vero perché l'adulticida ha dei tempi di pochi giorni quindi nel giro di 2-3-4 giorni al massimo l'effetto è già decaduto tenendo presente che poi gli adulticidi non solo sono sostanze chimiche quindi impatto sulla salute anche della dell'uomo ma soprattutto anche sulla sulla sugli insetti utili quindi api ad esempio ricordo che anche queste vanno tutelate quindi bisogna fare molta attenzione anche di dove si fanno i trattamenti aduticidi proprio per per impattare il meno possibile sull'ambiente anche in questo senso. Un ruolo importante in questa partita lo gioca anche il servizio veterinario dell'azienda USL di Ferrara. Qual è il ruolo dei veterinari e come invece possiamo proteggerci noi? Ce lo spiega Raffaele Benini dirigente medico veterinario dell'unità operativa attività veterinari AUSL Ferrara. Noi veterinari dell'azienda USL di Ferrara facciamo parte del Dipartimento di Sanità pubblica e insieme ai colleghi dell'igiene pubblica sia medici che tecnici siamo impegnati nella coordinamento della lotta alla zanzara per mettere in pratica il piano regionale di lotta alla zanzara che è il piano regionale arbovirosi. La zanzara ovviamente dobbiamo distinguere due tipi principali di zanzara, la zanzara tigre e la zanzara comune. La zanzara comune è la zanzara che tipicamente ha sempre abitato le nostre zone, la zanzara tigre invece è una zanzara che è stata importata circa negli anni 90 e negli ultimi decenni ha trovato un ambiente molto favorevole al suo sviluppo soprattutto nei centri urbani. Infatti vediamo che nel comune di Ferrara abbiamo una rete di monitoraggio della zanzara tigre molto attiva e distribuita in tutto il territorio urbano del comune di Ferrara tramite 90 ovitrappole. La zanzara tigre è la zanzara che trasmette virus molto importanti per l'uomo quale dengue, zika e chingunia, invece la zanzara comune è il vettore principale di West Nile. Il piano di sorveglianza della zanzara si consiste oltre alle ovitrappole per la zanzara tigre per il suo monitoraggio una rete di trappole anche per la zanzara comune distribuiti in tutta la provincia di Ferrara. La zanzara perché è un pericolo? Perché può trasmettere questi virus come ho appena detto ed è quindi molto importante evitare la sua proliferazione incontrollata nelle città e anche nel territorio rurale attorno alla città. Come si può fare? La zanzara innanzitutto si sviluppa nell'acqua, nell'acqua stagnante, sia la zanzara tigre che quella comune ha bisogno di circa una settimana di tempo per poter diventare adulta, quindi sviluppa in fase larvale e poi sfarfalla come adulto. Una volta adulta le femmine di zanzara, sia comune che tigre, sono in grado di pizzicare le persone come anche gli animali e perché hanno bisogno di sangue per poter produrre le uova. Una volta pizzicata la persona o l'animale tramite il sangue che ha ingerito, sviluppa le uova che va a depositare sull'acqua. Una volta che le uova schiudono dentro l'acqua, le larve poi sviluppano e diventano adulti. Quindi cosa bisogna fare per evitare un aumento esagerato del numero di zanzare? Evitare tutti i tipi di ristagni d'acqua che abbiamo nei nostri giardini e trattare i possetti perché teniamo presente che il 90% delle zanzare che nascono nelle nostre città nascono dai possetti, sia pubblici che privati. Teniamo presente che i possetti pubblici sono solamente un terzo, i due terzi dei possetti presenti nelle città sono privati, quindi è molto importante che ogni cittadino oppure amministratore condominiale tratti periodicamente i possetti di raccolta dell'acqua piovana. Questo si può fare con vari tipi, ci sono in commercio tantissimi tipi di prodotti larvicidi che con cadenza in genere ogni 2-3 settimane vanno ripetuti e spesso sono delle pastiglie che vanno introdotte dentro il possetto, si discioglono nell'acqua nel possetto e quindi vanno a uccidere le larve di zanzare. Molto importante per il cittadino come informazione è una volta quando avviene una grossa pioggia bisogna rifare il trattamento antilarvale perché le grosse piogge che in questo periodo hanno interessato la nostra provincia vanno a dilavare il trattamento che abbiamo fatto, quindi se facciamo un trattamento antilarvale e i giorni successivi avviene una grossa pioggia, ricordiamoci di ritrattare il tombino. Ovviamente la zanzara, quindi bisogna evitare che nasca, quindi utilizzare tutti questi principi di lotta antilarvale, ovviamente se ci sono alcune aree in cui è veramente difficile poterla debellare totalmente, bisogna anche stare attenti a non far semplificare gli adulti e quindi ricordiamoci che quando andiamo a fare una passeggiata in un parco o una cena all'esterno le zanzare adulte verranno attratte soprattutto dai vestiti colorati e maniche corte ovviamente, quindi si consiglia sempre utilizzare dei vestiti di colore chiaro a manicca lunga, quando possibile e l'utilizzo di prodotti ovviamente repellenti sulla cute che sono sempre molto validi. Sappiamo che le zanzare possono contribuire a trasmettere alcune malattie anche serie, una di queste è la West Nile, tra poco tra l'altro vedremo nel dettaglio dal punto di vista dei rischi che possono correre le persone infettate, cercheremo di capirne qualcosa di più, prima però facciamo un passo indietro al come questa malattia si può diffondere e come si può intercettare, ce lo spiega ancora una volta Raffaele Benini, dirigente medico veterinario dell'unità operativa veterinarie Ausl Ferrara, perché in questi casi i veterinari hanno un ruolo molto importante. La zanzara comune è il principale, è l'unico vettore di West Nile, questa malattia è una malattia molto complessa che colpisce sia gli animali che gli esseri umani, è una malattia molto grave per le persone quando sviluppa nella forma più neurologica, quindi sotto l'1% dei casi ed è molto grave anche per i cavalli, noi veterinari infatti siamo chiamati per la sorveglianza principalmente nei cavalli e negli uccelli. Nei cavalli infatti questa malattia può portare anche in molti casi alla morte dell'animale, perché il cavallo è molto sensibile a questo virus e può sviluppare una forma neurologica grave come nelle persone. Per fortuna per i cavalli abbiamo in commercio un vaccino che funziona bene, è un vaccino richiamo annuale, quindi tutti i possessori di cavalli della nostra provincia, che è una zona comunque notoriamente storicamente molto colpita da West Nile, è altamente consigliato vaccinare il proprio cavallo per questa malattia. È una malattia quindi complessa, dicevamo noi veterinari del Dipartimento di Sanità Pubblica collaboriamo e facciamo una sorveglianza principalmente sugli uccelli selvatici in cui andiamo a cercare il virus, è un virus che troveremo, pensiamo in genere ci si trova nel periodo ovviamente stagionale, primaverile e estivo e oltre alla ricerca negli uccelli facciamo una ricerca entomologica, insieme collaborando con l'esituto profilattico della sezione Reggio Emilia che vanno a effettuare proprio i campionamenti e le prove di laboratorio sulle zanzare campionate, andranno a cercare il virus nelle zanzare. Implementiamo quindi questa sorveglianza veterinaria entomologica su tutto il territorio che è finalizzata a rilevare precocemente il virus, quindi noi da maggio ad ottobre andiamo a cercare il virus negli uccelli, nelle zanzare. Appena troviamo il virus ovviamente partono una serie di controlli di prevenzione anche in ambito umano come ad esempio il controllo delle sacche di sangue per le trasfusioni, perché le persone oltre a potersi infettare da West Nile tramite la puntura di zanzara possono infettarsi anche tramite una trasfusione di sangue infetto, quindi una volta che il virus viene rilevato nell'ambiente, in una determinata provincia, partono i controlli su tutte le sacche di sangue trasfusionali. Quindi questo è proprio un esempio di collaborazione tra il servizio veterinario e la medicina in generale del territorio. Come dicevamo sono diverse le malattie trasmesse dalle zanzare, sia quelle tigriche, quelle comuni. Queste ultime ad esempio sono responsabili dell'infezione da West Nile. Che tipo di rischi si corrono e che sintomatologie possono insospettirci ce lo spiega Marco Libanore, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Dal punto di vista pratico la malattia da West Nile colpisce tra le persone che vengono punte da vanvare infette solo il 20%. L'80% ha un'infezione asintomatica, vuol dire che passa inosservata nella grossa quota di persone che vengono punte a punte da vanvare che sono infette da virus di West Nile. Questo 20% va incontro prevalentemente ad una febbre che si chiama febbre di West Nile in cui può essere accompagnata da una sintomatologia di tipo similinfluenzale, quindi astenia, malessere, lieve ingrossamento delle ghiandole, artromialgie, nausea, malessere generale. Poi c'è una piccolissima quota, in pratica 1 su 10.000 di quelli che vengono punti che possono essere colpiti da quella che è la forma cosiddetta neuroinvasiva, le cui espressioni cliniche sono rappresentate soprattutto dall'encefalite, da una meningite di tipo virale, da un interessamento a carico del midollo spinale, quindi una mielite e poi anche eventualmente da una poliradicolo neuropatia periferica. Quindi quattro tipi di espressione dal punto di vista neurologico. Però questa eventualità è molto rara, per fortuna sono casi che comunque si contano in linea di massima sulle dita di una mano. A parte alcuni anni in cui ne abbiamo avuti alcune decine di casi, solitamente i casi a interessamento neurologico sono molto esigui da questo punto di vista. Poi le persone più colpite, quelle più a rischio di andare incontro a West High, sono le persone anziane, perché hanno la cosiddetta immunoscenessenza, vuol dire hanno una quota dal punto di vista immunitario molto bassa rispetto alla popolazione normale, quindi hanno un deficit sia dell'immunità umorale che anche dell'immunità cellulomediata. E in particolare le persone che hanno delle patologie cronico-degenerative, quindi malattie di tipo neoplastico, malattie di tipo immunodepressivo, quindi pazienti come possono essere anche i cardiopatici, i broncopneumopatici, cronici, quelli che hanno a sua volta già delle patologie neurologiche di base o tutti quelli che sono in terapia immunosoppressiva perché hanno una malattia di base che necessita la somministrazione di un immunosoppressore. Quindi quelli che sono anfiani o che hanno nell'insieme tutte queste condizioni predisponenti, perché predispongono al fatto che se vengono punti da una zanzara che è portatrice del virus, questo virus trova poi terreno fertile per estrinsecare la patologia. Il serbatoio dell'infezione è rappresentato soprattutto dai volatili migratori, che sono quelli che possono albergare il virus dentro di sé addirittura per 6, 7, 8 mesi, e che la zanzara va a pungere e a sua volta, una volta che appunto questo serbatoio di questi volatili migratori, in particolare Gave, Ghiandaie e Cornacchie, lo può trasmettere accidentalmente anche all'uomo. Quindi chiaramente quelli che sono gli attori che entrano in gioco, quindi le vanzare infette, i volatili portatori del virus che lo portano con sé dalle aree ad elevata endemia da cui emigrano poi in primavera verso le nostre regioni, portano con sé questo virus che chiaramente arriva dal Nord Africa o dall'Asia minore, dove là in pratica è presente in maniera cospicua. Però già il fatto che quasi tutti gli anni noi abbiamo almeno qualche caso di malattia viene ormai considerata a tutti gli effetti anche la nostra area un'area endemica per la malattia, perché in pratica tutte le estati abbiamo dei casi. Dall'altro lato c'è da dire che con la cosiddetta tropicalizzazione del clima, che ha allargato ulteriormente il periodo di caldo anche nelle nostre regioni, non ci si limita più ad avere una circolazione confinata a luglio e agosto, ma abbiamo addirittura che da giugno, addirittura fino a ottobre o anche a novembre, abbiamo una circolazione di questi insetti e quindi potenzialmente la trasmissione della malattia non è più limitata a luglio e agosto, ma ci sono stati anche dei casi di West Nile alla fine di ottobre, il che è tutto a dire perché chiaramente di fatto non abbiamo più un clima temperato, ma un clima che si avvicina sempre di più a un clima di tipo subtropicale. Diverse sono invece le infezioni trasmesse dalle zanzare tigri. Come possono arrivare all'uomo e che tipo di diffusione possono avere? Ce lo spiega ancora una volta il professor Marco Libanore. Le altre malattie, le arbovirosi da cui ci dobbiamo guardare, perché pur non essendo endemiche, però sono presenti in maniera cospicua in tutte le aree tropicali e subtropicali, sono esenzialmente la Dengla, il Cicungunya e l'Ovvicka. Però a differenza della West Nile che viene trasmessa dalla vanvara normale, nome latino Cules Pipiens, la vanvara tigre trasmette gli altri tipi di infezioni appena enunciati. Il nome latino è Edes albopictus che corrisponde alla vanvara tigre che presenta anch'esso un tropismo per gli altri virus e consente la trasmissione eventualmente nel caso dovessero giungere delle persone con l'infezione addosso perché si sono recati per motivi di piacere in Sud America o in altri contesti dove sono presenti queste infezioni, portandosi il virus con sé perché magari l'hanno in incubazione o perché manifestano la malattia mentre sono a bordo dell'aereo a rientro. Se questi qui vengono punti in patria dalla vanvara tigre possono poi andarla a trasmettere a persone che abitano o vivono vicino loro come è già successo ed è stato documentato già nel 2007 in provincia di Ravenna e nel 2017 nell'Affio dove ci sono state dell'epidemia di Cicungunya perché dei soggetti che rientravano dalle zone endemiche per Cicungunya venivano punti da questa vanvara tigre che a sua volta andava a trasmettere il virus a dei malcapitati che abitavano vicino. Pensate nell'area di Castiglione di Cervia ci sono stati più di 300 casi di Cicungunya nel 2007 e altre centinaia di casi nell'agropontino, nella zona di Anfio, nel 2017. Poi adesso ultimamente c'è stato addirittura un incremento di casi autoctoni anche per quanto riguarda la dengue. Nel 2020 un'epidemia nella provincia di Vicenza di dengue in cui un soggetto che rientrava da Sumatra è stato appunto dalla vanvara tigre avendo il virus in corpo l'ha trasmesso agli altri familiari generando un'epidemia familiare con sei casi di dengue anche autoctone in Italia. Quindi il problema oltre ad avere dei casi di importazione legati al fatto che le persone hanno la possibilità di andare direttamente in queste aree endemiche per questi virus rientrando nell'arco di poche ore in Italia si portano con sé il virus e dopo se abbiamo dei vettori quali appunto questo tipo di insetti possono rendersi poi responsabili anche della trasmissione a livello locale generando quelli che sono i cosiddetti casi autoctoni. Dengue, cicungunia e zika virus sono queste le principali infezioni che possono trasmettere le zanzare tigri quali sono le sintomatologie in cosa si differenziano l'una dall'altra sentiamo ancora Marco Libanore il direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive dell'azienda ospedalia universitaria di Ferrara. La cicungunia a differenza della dengue e dell'ovica dà soprattutto una sintomatologia di tipo artromialgico che può simulare una patologia di tipo reumatologico perché anche la parola stessa cicungunia nel dialetto da cui è generata vuol dire colui che si contorce perché si contorce? perché assume una posizione del corpo per avere una limitazione del dolore quindi assume, si tende a inarcarsi in modo da avere proprio questo atteggiamento di tipo antalgico, antidolorifico perché quelle che sono interessate sono soprattutto le grosse articolazioni allora c'è una febbre, un malessere generale associato ad una sintomatologia di malessere quindi con astenia, facile esauribilità muscolare nausea, mal di testa che assomigliano e la rendono fine all'influenza però soprattutto quello che spicca sono i dolori articolari quindi il cicungunia è proprio tipico di una patologia con un coinvolgimento di tipo articolare che può avere addirittura un decorso non solo acuto ma anche subacuto e anche cronico c'è gente che ha contratto la cicungunia è stata in ballo addirittura un anno e più con una sintomatologia di tipo tragico che è andata sfumando ma nell'arco di tempo molto lungo quindi vuol dire che delle volte soprattutto quando viene trasmesso una carica virale importante poi la risoluzione avviene in maniera lenta e progressiva generando delle difficoltà in termini di recupero la caratteristica della dengue è soprattutto che dà febbre e malessere e poi tipico è il dolore retroorbitario quindi anche in questo caso linfonodi che aumentano di volume il malessere, i dolori muscolari la stenia, la facile esauribilità e poi il rischio della dengue in sé che è definita l'influenza tropicale soprattutto il rischio se il soggetto va incontro ad una recidiva ad una nuova infezione dovuta ad un sierotipo diverso di dengue perché ne esistono quattro sierotipi che con una reinfezione se avviene nell'arco di sei mesi possa poi andare incontro a quella che è la dengue emorragica e questa è molto più grave perché dà delle lesioni interne che possono portare a delle forme di emorragie interne portando anche a morte il soggetto però di solito nel viaggiatore quello che va e che se lo porta è difficile che poi possa andare incontro ad un nuovo episodio non tornando più all'esposizione difatti i casi di dengue emorragica sono più frequenti nelle aree endemiche tipo Brasilia e Argentina e colpiscono soprattutto i bambini perché questi se si rinfettano nell'arco di sei mesi dopo hanno delle emorragie interne che li può portare a morte invece lo vika il rischio è soprattutto per la donna gravida perché se la donna gravida viene punta da una zanzara che porta il virus poi possono esserci delle alterazioni fetali in particolare sfociare nei casi di microcefalia tant'è vero che quando ci fu la prima epidemia in Brasile nel 2016 ci furono migliaia di casi di donne che partorirono dei bambini con microcefalia quindi con delle malformazioni fetali importanti che hanno generato poi dei bambini meno matti a tutti gli effetti quindi tutte le donne che si recano in Brasile dovrebbero fare prevenzione per non rimanere incinta oppure chiaramente se si devono reccare per motivi imprescindibili devono fare poi tutti i test rientro per verificare se c'è stata un'infezione e fare poi un monitoraggio anche sul fetto novità importante che a differenza di quello che paradossalmente per la West Nile c'è un vaccino per i cavalli e non c'è il vaccino per l'uomo e invece sono usciti sia il vaccino per la cicungunya sia il vaccino per la dengue quello per la dengue è già praticamente disponibile e lo si può fare soprattutto se uno si recca per motivi di viaggio nelle aree endemiche però bisogna organizzarsi prima perché bisogna fare la doppia dose in cui c'è una somministrazione poi un successivo richiamo a distanza di 20 giorni un mese e poi dopo bisogna dargli il tempo che sia pronti gli anticorpi e poi c'è un vaccino addirittura approvato in America di origine francese anche per la cicungunya quindi si sta muovendo molto da questo punto di vista perché cominciano a essere delle patologie che si osservano anche nei paesi europei e quindi essendoci poi un incremento dei viaggi verso queste destinazioni si incrementano i casi di importazione i rischi di trasmissione locale e quindi il fatto di poter poi avere a disposizione dei vaccini diventa importante ai fini preventivi di poter poi e quindi Grazie.